Ben ritrovati, mesi amici. Non chiedetemi dove sono stata, voglio lasciare una scia di mister. Per farmi perdonare per l'assenza vi parlerò di un classico americano, perché io so che voi italiani amate il cinema americano, c'è vero? Qualche sera fa, un progetto, mi ha proiettato a Harry di Presidente Sally, un film del 1989, con l'impeccabile regia di Rob Reiner. E' pur vero che è passato alla storia per il finto orgasmo di Sally, ma l'assenza del personaggio passa da quel a parte perché non a tutti piace. Harry l'accusa di essere una donna d'alto mantenimento, o sua insaputa, ma la vostra contessa sa bene cosa vuol dire alto mantenimento e anche i miei mariti. Una magnifica New York, sogno di successo e di amore, è il palcoscenico di questo film nel quale le copie si raccontano. Quindi uomini e donne non possono essere amici. Harry pensa di no, Sally pensa di sì. Le copie si prendono, si lasciano, alcune si sposano. I due faranno un viaggio di dieci anni fatto di storie, delusioni, matrimoni e fallimenti, detestandosi all'inizio sino al lieto finale, termine ideale del loro percorso. Il scenico Harry, di origini popolari, aspirante consulente politico, con il chiodo fisso del sesso, e che legge sempre le ultime pagine di un libro perché potrebbe morire, trova in Sally che è borghese, snob, sognatrice, con l'obiettivo di diventare giornalista, talmente precisa al limite del detestabile, come per esempio nelle scene della torta di mele con la panna a parte, che vi sto cucinando proprio adesso, o la dose corretta del Bloody Mary. Trova in lei, insomma, quell'altra metà che nella grande mela può risultare un finale scontato della cinematografia, ma non per questo non naturale, eppure desiderato, soprattutto nelle sere in cui il romanticismo ha la meglio. Il tema dei single over 30, che potresti dire di essere stata sposata, appare in tutte le sue dinamiche come a prepista del più femminile, e nei quali è l'uomo a diventare oggetto, Sex and the City. Rob Reiner e Nora Ephron giocano soppiantamente con le battute, senza cali di tensione del ritmo e la colonna sonora in sottofondo di Gershwin che culmina in quel You say potato, I say potato, You say tomato, I say tomato, e ricordano un po' Woody Allen che ha fatto per la parte più grande della sua carriera, proprio a New York, la scenografia dei suoi capolavori. Insomma, mesami, l'amore idealizzato e perfetto di Sally e quello assolutamente imperfetto e maschilista, tipico dell'uomo che tende a farsi anche un'amica, e anche quella che non trova attraente, creano un'alchimia nel quale alla fine è proprio il più cinico a desiderare che arrivi il più presto il momento di condividere la propria vita con Sally. La contessa, nel riguardarlo, continua a giudicarlo parfetto. Battute, ironia, vita, grande interpretazione dei due attori, Billy Crystal e Meg Ryan. Ma adesso lascerò al mio ambrogio l'onore di assaggiare la prima fetta della torta di mele di Sally. Panaparte s'intende. Bonsoiré, mesami.